Con una variante dal fascino discreto, la casa francese propone sul mercato italiano le versioni berlina e station wagon della Clio. Incarnazione del nuovo design di marca di Renault, creato da Lorenz Vandenacker, Clio si è confermata l'auto straniera più venduta in Italia. Grazie al suo stile, grazie al suo contenuto tecnologico e all'ampia possibilità di personalizzazione. Un successo raggiunto anche grazie al connubio con la moda, dopo il successo di Clio Costume National, Renault presenta Clio Dual Collection, la prima collezione fashion di serie limitata per esprimere la duplice anima della propria gamma. Un vero e proprio duello di seduzione che costituirà la trama del nuovo spot, offrendo due chiavi di letture differenti, immediatamente ricollegabili alle due auto protagoniste della campagna, Clio Berlina e Clio Sporter. Questa volta Renault ha deciso di rivolgersi all'Istituto Marangoni di Milano, la più importante scuola di moda e di design italiana, per pensare al look dei protagonisti del proprio spot pubblicitario. Tra i lavori presentati dagli studenti è stata selezionata la mini collezione della giovane studentessa Francesca Cottone, che si è dedicata personalmente sia al disegno degli abiti che alla produzione dell'intera collezione, composta da tre outfit protagonisti nel nuovo spot firmato dall'agenzia Publisys. Il carattere eclettico di Clio si esprime nel nome Duel, quattro versioni combinate tra due carrozzerie, Berlina e Sporter, e due serie limitate, Duel e Duel Squared. Stile e dinamismo elevati al quadrato. Basata sull'allestimento cuore di gamma Zen, già ricco di equipaggiamenti, Clio Duel offre in più di serie, cerchi in lega da 16 diamantati black, park in camera, fendi nebbia, volante in pelle, profili e dettagli esterni cromati ed un look decisamente fashion. Le personalizzazioni Duel si ritrovano nei dettagli interni, ma anche all'esterno, su tetto e retrovisore. Clio Duel Squared è la versione alto di gamma, offre in più rispetto a Duel cerchi in lega da 17 pollici, diamantati black, privacy glass, selerie in pelle riscaldabili, R-Link Evolution, climatizzatore automatico, pomello del cambio in alluminio e la soglia porta. Anche in questo caso la personalizzazione Diamond le troviamo sui retrovisori esterni, profili areatori e modanatori interni delle portiere. Collezione Clio Duel, il duello fashion per vincere sul mercato.